La questione del buco da oltre 200 milioni di euro che metterebbe a rischio la tenuta del sistema sanitario abruzzese continua ad agitare le acque del dibattito pubblico regionale. I conti in rosso sono certificati dai dati tendenziali trasmessi dalle quattro asla abruzzesi, ma l'assessore alla salute, Nicoletta Veri, si è subito affrettata a smentire, rilevando che si tratta di numeri ancora parziali e che dunque al momento la sanità abruzzese non corre alcun rischio e non esiste alcuna ipotesi di commissariamento. Il consigliere regionale Silvio Paolucci, che ha ricoperto lo stesso incarico di Veri ai tempi della giunta ad Alfonso, tuttavia rilancia. Intanto sono dati registrati dalle asle, quindi non è che le opposizioni hanno lanciato un allarme che non avesse un fondamento. Sono circa 280 milioni di euro come tendenziale a chiudere e su questo c'è tanto da dire perché le ripercussioni sono tutti degli utenti. Io voglio soltanto fare rapidamente un elenco di problemi che noi viviamo, dai pronti soccorso al taglio presso i 118, parlo dei medici, gli operatori che non possono vedersi avere i dispositivi medici o anche le attrezzature minimali come spesso denunciano, per esempio all'Aquila, a Pescara abbiamo addirittura chiuso l'accesso agli utenti del pronto soccorso. Quanto è concreto il rischio di un commissariamento? La legge dice questo, quando superi il deficit del cosiddetto 5% il rischio è concreto. Ora il 5% sono circa 150 milioni di euro per l'Abruzzo. Siamo oltre, io ritengo che il governo amico oggi gli darà una mano, cioè il governo della Meloni con il suo fedelissimo Marsilio che è partito della Meloni, potrà vedersi riconosciuto una sorta di aiutino. Ma il punto non è questo, perché il prezzo lo pagano, come ho già detto, gli utenti e gli operatori. Il punto vero invece è quest'altro, un taglio di questa portata limiterà le assunzioni, limiterà le prestazioni da erogare per i cittadini, dalla diagnostica fino ad arrivare alle prestazioni vere e proprie e limiterà quelli che possono essere gli investimenti a favore degli operatori per dare una sanità migliore e più di qualità. Che margini di manovra può avere a questo punto la Regione per cercare di migliorare il quadro dei conti? Intanto un piano. Io voglio ricordare che in questi quattro anni non hanno approvato neanche un solo piano, il piano sanitario ultimo, è quello 2016-2018 che porta la mia firma e che ovviamente è pre-Covid, perché è arrivato il Covid l'inverno di due anni fa. Non è possibile andare avanti senza un piano. Quindi il compito della Giunta regionale è esattamente quello di programmare. Da questo punto di vista il fallimento di Marsilio è un fallimento clamoroso.